La stilista di gioielli fiorentina, Patrizia Daliana, ha presentato ad Agrigento la nuova collezione. Al microfono di Davide Saia. Patrizia Daliana ad Agrigento, per presentare la sua nuova collezione, descriviamola e conosciamo meglio come nasce questa linea. Allora, la mia collezione si tratta di una collezione di gioielli in puro bronzo rosso e in tagli in vetro e ceramiche antiche. Io vengo dalla gioielleria antica, dalla bigiotteria d'epoca, provengo da un mondo che è infinito, infinite le idee che mi porta a questo mondo. Poi sono realizzati a Firenze, completamente a mano, da orefici bravissimi che mettono la cura in ogni dettaglio su ogni singolo pezzo. E ogni singolo pezzo è unico e questa è la bellezza, anche se trattasi di materiali poveri, quale il bronzo e quale la porcellana, che però è antica. Io faccio ritagliare, scelgo dei disegni e lo faccio ritagliare da un molatore bravissimo e poi li inserisco, quindi diventa un pezzo unico. Gli intagli in vetro sono realizzati su stampi antichi e il puro bronzo è trattato affinché non diventi, non crei allergie assolutamente, perché è puro bronzo. È trattato affinché non si alterne, non si annerisca. Quindi è una gioielleria eterna, purtroppo contro il mio interesse, e che però è molto attenta alle mode contemporanee. Io vengo da Firenze, quindi per esempio a Firenze servo la boutique più chic che c'è a Firenze. E quindi mi piace anche che siano oggetti che possano essere indossati sia dalla ragazza attenta alla moda, che alla signora, alla signora anche poi di un'età anche avanzata. I colori sono sempre colori scelti da me, luminosi, però allo stesso tempo anche il nero diventa un colore luminoso. Indossandoli sono sempre più belli che visti o toccandoli anche, perché sono gioielli che vanno toccati e indossati. Molto versatili anche questo, perché tutte, per esempio, le mie chanelli hanno un bracciale interno, per cui si possono... Questa è la linea mare che ho fatto per l'estate, con stelle marine, poi per l'Agrigento, per la Sicilia ci volevo assolutamente. E tutti i bracciali diventano shocker, per esempio, cioè collari, con un estender, tipo ecco questi... Questo diventa un bracciale con i ciondoli che con un estender diventa collana. Grazie.